Quando ho tra le mani l'argilla è come se i miei antenati vivessero ancora. Provengo da una quarta generazione di ceramisti. Sono nato e cresciuto in bottega con mio padre. Questo mestiere ti dà l'opportunità di esprimere se stesso con quello che è la materia prima, la terra, la creta. Spero che continui con mio figlio Andrea o con qualche altra persona a vivere. Quindi il rapporto che ho con questa materia è essenzialmente vita. La materia prima è la terra. Se non ci fosse il sole per seccarla non potremmo andare avanti con la produzione. Il ventaglio, questo ventaglio, nasce da tanti ventagli già fatti prima. Nasce da un'idea, un disegno. Esprime quello che è lo stato d'animo di oggi. È un elogio all'instabilità. Lo stesso presidente della Repubblica mi ha detto tu sei riuscito a raggiungere quell'instabilità su quel ventaglio. La mia vita è un'idea, un'idea, un'idea.